Ciao ragazzi e bentornati su Flash Trend Ita. Oggi vi racconto un gossip che ha acceso i social. Roberta Di Padua, la dama di Uomini e Donne, è incinta? C'è una foto su Instagram che ha fatto scattare il sospetto tra i fan. Rimanete con me fino alla fine per scoprire tutti i dettagli e una chicca che vi lascerà di stucco. Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono più felici che mai dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne e ora sembrano pronti ad allargare la famiglia. Il gossip è esploso dopo che Alessandro ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae Roberta con in braccio una bambina. E non è tutto. In tanti hanno notato che già sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia Alessandro ha fatto un gesto che ha fatto sognare tutti. Ha regalato a Roberta un piccolo calzino da neonata, un segnale che la coppia sta cercando di avere un bambino. Secondo quanto riportato da un fan di Dejanira Marzano su TikTok, pare che i due stiano provando ad avere un figlio da diversi mesi. E ora mi chiedo, sarà davvero così o è solo un modo per tenere alta l'attenzione? Anche perché al momento Roberta ha deciso di disattivare il suo profilo Instagram. Che sia un modo per prendere le distanze dai rumors o per prepararsi ad annunciare la notizia? Solo il tempo ce lo dirà. Nel frattempo, amici, cosa ne pensate? Secondo voi Roberta è davvero incinta o stiamo tutti cadendo in una grande illusione? Fatemelo sapere nei commenti. Prima di salutarci vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati su Uomini e Donne e tutte le storie d'amore e gossip che ci fanno sognare. Un abbraccio e ci vediamo presto con nuove chicche tutte per voi. Ciao ciao!